È stato approvato dalla Commissione Consiliare l'emendamento che attribuisce all'Arta il ruolo di soggetto attuatore della legge regionale Abruzzo-Regione del Benessere. Un'occasione, come sottolinea l'avvocato Maurizio Dionisio, direttore generale di Arta Abruzzo, per trasformare il territorio abruzzese in un luogo di eccellenza per la qualità della vita, l'offerta turistica, l'enogastronomia di qualità, la cultura del cibo, sviluppando caratteristiche e peculiarità uniche di una terra straordinaria, esente da massicci fenomeni di inquinamento antropico. Noi ringraziamo di questa novità delle ultime ore, ringraziamo il legislatore regionale, ringraziamo tutti i consiglieri regionali che hanno permesso l'approvazione di questo emendamento che vedrà Arta Abruzzo in prima linea in un diverso e più nuovo concetto della qualità. Ovvero il benessere, il benessere inteso come qualità della vita, qualità della vita all'interno di un ambiente protetto e pulito, alimentazione di qualità e a chilometro zero, ma anche un turismo che potrà avvalersi di una regione meravigliosamente pulita. Un ambiente protetto e pulito ha detto bene, ma questa è una responsabilità che va delegata anche ai cittadini. E questa sarà l'opera di educazione ambientale che vedrà Arta Abruzzo in prima fila per rappresentare, per comunicare, per rendere dotti i cittadini abruzzesi di quelle che sono le buone pratiche, le buone condotte di vita.